Stiamo subendo un attacco su vasta scala a energia fotonica. Non faremo in tempo ad attivare le difese. Oh no. Ci vediamo di nuovo, esseri umani. Guarda là, quello non è il valoroso Koji Kabuto. Koragon. La creazione di un nuovo mondo è quello che desidero. Così l'umanità non avrà più speranze. Questa sarà l'ultima battaglia di Mazinga. Mazinga, fuori! Motori in azione! E Mazinga Z! Questo mondo merita di sopravvivere o no? Mazinga Z Infinity L'unica finanziaria di Mazinga... Lei oralione dell'Unt 터 mantenimento naturale. 055099 Gothic